L'invito ad essere protagonisti e indicatori di speranza è quello rivolto ai giovani dall'Arcivescovo di Lecce Monsignor D'Ambrosio in occasione dei lavori della IV Assemblea Diocesana, svoltasi presso il Cine Teatro dei Salesiani alla presenza degli operatori pastorali della Diocesi. Un momento di riflessione per gettare le basi verso il sinolo dei giovani, voluto dall'Arcivescovo Metropolita per un momento di riflessione collettiva tra la Chiesa e i giovani, durante il quale sviluppare poi il confronto e l'ascolto sull'attuale condizione della fede delle nuove generazioni che non devono essere viste come un problema, piuttosto come una ricchezza finora sottovalutata, sprecata, una risorsa di speranza accantonata ai margini delle realtà ecclesiali. L'obiettivo? Cercare di entrare nel mondo dei giovani per avvicinare sempre più la Chiesa a loro, una Chiesa a cui bisogna eliminare le rughe come intimato da Monsignor D'Ambrosio per un futuro di partecipazione e fiducia. Al termine dell'Assemblea pastorale il compito poi ad un apposito comitato preparatorio a raccogliere le idee, le istanze, le domande e i dubbi emersi per poi elaborarle nelle successive assemblee sinodali. Tutti voi lo capite.